l'executivo ha ricordato Juventus Roma per la poca produttività in attacco. Che tipo di partita ha visto? Me la devo riguardare bene con il video però non penso che sia la stessa partita. Secondo me oggi abbiamo fatto meglio da quello che abbiamo fatto contro la Roma. E' chiaro che siamo arrivati a fino a a a una zona del campo. Fino lì abbiamo fatto bene possiamo migliorare sicuramente arrivando con gli uomini uomini da dietro perché così spingiamo i nostri attaccanti a avere questa ultima pala più vicino alla porta però fino lì abbiamo fatto bene. Poi dopo dentro l'area è stata oggi difficile contro una squadra che si chiude bene con dei difensori che dentro l'area di rigore difendono molto bene. Eh eh un pareggio dove sicuramente risultato non siamo contenti perché giochiamo per vincere però la prestazione è stata una buona prestazione ehm non mi piace paragonare una partita con l'altra perché alla fine sono storie diverse, giocatori diversi, avversarie diverse che affrontiamo, modulo diverso. Eh alla fine in tutto sommato abbiamo fatto una una buona prestazione ma sicuramente non sufficiente per vincere la partita. Sicuramente le volevo chiedere soprattutto nel secondo tempo c'erano diverse situazioni e c'era un po' di ritardo nel riempire l'area di rigore e quindi perdevate tempi di gioco quando il pallone andava sugli esterni tante volte non si riempiva l'area di rigore. È in questo che dovete migliorare anche? Non è una questione di riempire, è una questione di attaccarla e nel momento giusto. Posso? Eh e di attaccarla nel momento giusto anche se oggi ripeto una squadra che difensivamente parlando dentro l'area di rigore ha fatto bene perché ci sono dei giocatori dall'altra parte che sanno difendere. Noi sicuramente alternare questi cross in aria girare la palla e il tiro da fuori che abbiamo cercato con Kup qualche qualche momento. Sai quando una squadra si chiude non è facile per nessuno entrare ci sono altre altre possibilità come il tiro da fuori che oggi secondo me abbiamo sfruttato poco. Ultima velocissima la scelta di sostituire Vlaovic e come mai ha preferito mettere Weali in mezzo e non Nico grazie. Nico lo stava giocando bene da esterno eh mi piace Nico quando rientra e quando attacca il secondo palo penso che è un giocatore interessante che ha questo tempo di di inserimento del secondo palo eh Cim abbiamo voluto eh un giocatore anche se avendo poca profondità che potesse attaccare bene la profondità e così aprire un po' di più le linee dell'avversario e quando no perché attaccava la mezzala lui venire incontro e poter combinare con i suoi compagni. Ha fatto una buona partita come ad Usa nel primo tempo ha fatto una buona partita e per questo che loro stanno lì per contribuire e aiutare la squadra che possa fare novantacinque minuti bene. Buonasera Ministro Marco Vendizi signore mia Galciagnusa ecco le chiedo granitica la eh difesa del Juventus che non subisce gol da inizio campionato c'è da fare non critica un pochino di riflessione su quello che è il discorso relativo eh relativo all' attacco lì dove magari c'è stato qualche piccolo errorino e forse mancherebbero anche i tiri da fuori dei centrocampisti. Grazie. Eh lì sono d'accordo i tiri da fuori sono importantissimi sono importantissimi quando troviamo una squadra così eh che sa difendere molto bene l'area di rigore abbiamo i giocatori per farlo e non prendere gole anche responsabilità e anche merito di Dusan di Cimoci che sono entrati giocatori che aiutano tantissimo a orientare la squadra avversaria e eh arrivare bene in attacco è anche compito dei difensori di poter portare questa palla e spingere gli attaccanti più vicino all'area di rigore oggi a tratti abbiamo fatto bene altri possiamo sicuramente sicuramente migliorare. Buonasera mister Camillo De Michelis tutto io e tutto mercato web volevo chiederle quanto è importante per voi vedere un Calulu e con Miners che sono arrivati da poco giocare con questa leadership eh nel finale sembrava che si dovesse passare sempre solo da con Miners perché la squadra riconosceva in lui un leader. Sono d'accordissimo con quello che hai detto d'accordissimo eh io dico solo che atteggiamento sono dei ragazzi che si sono inseriti dopo però con un atteggiamento fantastico e è questo che noi vogliamo vedere e avvenire in in squadra sempre sempre due esempi eh fatto molto bene eh da te due esempi fantastici su e l' atteggiamento uno è difensivo l'altro è l'offensivo uno gioca mancino l'altro è è è destro però alla fine hanno un atteggiamento che è fantastico di vedere. Francesco Pellino agenziare mister ha parlato dei tiri da fuori le volevo chiedere magari non era il caso di spostare Coppo un po' più avanti e avvicinarlo un po' alla porta avversaria grazie. Sì ma per avvicinarlo alla porta avversaria non è così semplice come come lo stai dicendo avvicinarlo a alla alla porta avversaria noi dobbiamo arrivare nel momento giusto e nel momento giusto eh non è così facile arrivare oggi a tratti abbiamo fatto bene altri sicuramente possiamo possiamo fare meglio ma sono d'accordo che se riusciamo a costruire bene da dietro sicuramente eh lui si troverà più vicino all'area di rigore più nelle zone dove lui potrà eh tirare in porto. Buonasera Emanuele Gambarepubblica voglio tornare ancora un attimo per favore su Vlaovic eh le lascio un dato nel primo tempo ho toccato sei palloni sbagliandone tre e poi ho notato che a un certo punto mi sembra più o meno a metà tempo lei l'ha rimproverato molto in maniera molto è sembrato che lì sembrato non ho rimproverato. Ok quindi immaginavo che non fosse soddisfatto di lui per qualche motivo e volevo capire eventualmente perché? No no ero soddisfatto è solo che puoi devi capire che dentro un stadio con il rumore che esiste eh non gli posso parlare eh con con il tono basso e devo alzare un po' il tono perché se no lui non mi ascolta da dove è però non ho mai rimproverato anzi eh ho dato una una situazione l'ho detto in una situazione su un difensore dove lui eh ha fatto dopo ma mai mai rimproverato Dusan il suo atteggiamento anche il suo atteggiamento è fantastico no mai è un compito anche degli altri alimentarlo eh non è una responsabilità solo solo sua è chiaro che ripeto oggi con una squadra che veniva a pressare però nel momento che si trovava in una situazione inferiorità si si decompattava e stava indietro e è chiaro che quegli spazi hanno cercato di di non lasciarli e lui si trova anche a lui in un spazio ridotto dove non è facile trovarlo Buonasera mister Luca Cavalloro Football Magazine volevo chiederle a proposito di atteggiamento come giudica quello di Savona questa sera grazie un altro un altro cosa devo dire da un ragazzo così appena entrato giovane non giovane non interessa giocatore forte giocatore forte e devono andare in campo e giocare e poi non è responsabilità mia è tutta sua io solo sto guardando come fa in allenamento per dopo dare l'opportunità di giocare ma lui se lo guadagna in allenamento di giocare una partita così Antonio Paolino Raglio Bianconera se l'aspettava così il Napoli dopo averlo studiato tutta la settimana per le prime quattro giornate e soprattutto non c'è mai un tempo giusto per fare i cambi è sembrato forse che si aspettasse di più da quelli che erano in campo prima di sostituirli grazie non c'è un manuale sul tempo di su sul cambio il cambio è la mia sensazione la sensazione anche del mio staff che ne parliamo per capire cosa ha bisogno le squadra questo va più a a sensazione non ho un manuale di dire in questo tempo io cambio non l'ho mai fatto e spero di non farlo mai devo sentire la partita devo essere concentrato su quello che vedo quello che sta succedendo per poter farlo delle volte faccio bene delle volte sbaglio però lo faccio così e l'altra domanda il Napoli l'atteggiamento sì me lo aspettavo un po' e venire a giocare in casa nostra è chiaro che non mi immaginavo un Napoli coraggiosissimo sicuramente normale che sia una squadra che ha provato ogni tanto di pressare tante altre volte sono andati indietro penso per strategia loro per merito nostro eh ci siamo trovati con una squadra che che quando fa un blocco basso che difende dentro l'area di ricorre è una squadra difficile di di attaccare buonasera mister Antonio Limbo pianeta Napoli volevo chiederle per me noi meglio in campo abbiamo giocato meglio del Napoli questo sicuramente poi dopo per andare in vantaggio sicuramente dobbiamo fare un po' meglio due squadre forti oggi siamo alla quinta giornata manca tantissimo e la nostra prossima avversaria ci starà aspettando il Genua adesso i ragazzi si recuperano e prepareremo questa partita per arrivare pronti a affrontare una squadra che in casa eh è molto complicata ma alla fine come tutte le squadre in Serie A Buonasera mister di qua Michele De Blasi su G Sport e Notizie un suo giudizio su Manuel Locatelli e in questo inizio di stagione è l'unico del centrocampo bianconero che è stato sempre presente ottima partita oggi eh ottimo comportamento in tutti gli allenamenti che facciamo e per questo che è per questo che fa delle partita a livello che ha fatto oggi perché si allena bene lavora bene comunica bene con i suoi compagni è sempre attento concentrato su quello che vogliamo fare nel primo tempo eh abbiamo cambiato qualcosa nella nostra fase difensiva lui è il primo a orientare i suoi compagni e per questo che Manu è in campo scusate ultime due domande Buonasera mister Daniero di Aduttonapoli si è citata alla Roma la partita di tre giornate fa dove l'uscita di Vlaovic abbassò la squadra oggi con UEA non è accaduto però sia lui che poi Vlaovic non hanno effettuato quella profondità per gli inserimenti velenosi dei centrocampisti crede che sia uno dei motivi per il quale la Juventus non segna da tre partite in campionato oppure ci sta lavorando? Riesco a capire la tua osservazione però sono partite diverse se guardi la partita contro la Roma è stata una partita diversa è stata una partita giocata più alla pari equilibrata nel senso che loro volevano tantissimo avere la pala volevano giocare il Napoli oggi ripeto quando c'era la situazione che noi uscivamo da dietro era una squadra che si ricompattava e stava lì in un blocco molto solido basso e mancava un po' più la profondità anche se anche se quando c'è poca profondità dobbiamo continuare ad attaccarla per creare situazione tra le linee per i nostri giocatori. Grazie. Buonasera mister Stefano Salandini tutto sport senti volevo chiederti della tua munizione per te quella di Olivera era una giocata? Grazie. La mia munizione? Sì dopo la protesta su Olivera? Era una protesta. Per te era una giocata quella di Olivera? Quella del portiere? Per me sì per me sì e per questo che ho protestato nel momento era evidente penso che è ovvio per tutti è chiaro che l'arbitro sta lì e la decisione è sua e l'ho protestato sicuramente e giustamente mi ha dato mi ha dato un giallo magari lo potrei evitare